un bambino a un certo punto viene fuori il filmato montato di tutti i baci tagliati dal prete che finalmente si possono vedere esiste una scatola dove ci stanno tutti i pezzi tagliati di report? ce ne raccontate almeno uno che non avete mandato in onda? beh, pensa che la prima edizione di report nel 97 quando nacque i titoli di coda erano proprio gli scarti cioè sui titoli di coda di ogni puntata, i titoli durano 2-3 minuti andavamo a prendere proprio quelle cose che non si potevano montare e ci mettevamo l'etichetta sopra scarti e anche su quello però una volta ci arrivò una causa, mi ricordo dalla Fiat poi un po' delle cause, ne parliamo perché è civile la passione ma anche la citazione direi che abbiamo scartato delle cose che erano fondamentali e non sono andate in onda per autocensura direi proprio a me non viene in mente neanche uno